Viteriù, il romanzo storico dedicato ai sanniti, diventerà un film. L'annuncio lo ha dato l'autore Nicola Mastronardi in occasione del Festival del Libro e della Scrittura Creativa di Scena all'Auditorium di Isernia. I diritti cinematografici di Viteriù sono stati ceduti ad una casa di produzione con sede a Londra, anche se con anima italiana, e ci sarà la partnership con uno degli istituti del CNR di Roma per la videografica. In sostanza Viteriù diventerà un film internazionale. Fin dall'origine di questo romanzo l'obiettivo è stato quello di far uscire dall'anonimato le nostre montagne, la storia, ridare dignità storica ai nostri territori e al popolo italico, in particolare ai sanniti, vincendo la sfida consiglia che voleva la damnazio memorie della nostra civiltà. Questo film potrebbe diventare un'opportunità per il Molise, l'allestimento di un set cinematografico, infatti porterebbe sin da subito benefici economici. Soprattutto le due regioni, ma anche le forze imprenditoriali migliori di Abruzzo e Molise, devono fare in modo che il film venga girato assolutamente dove è stato concepito, sugli altopiani di Abruzzo e in alto Molise. Per far questo occorre entrare nella produzione con un investimento, con un investimento minimo in realtà, che però produrrà immediatamente, nei due anni in cui si girerà il film, come è accaduto a Matera, come sta ancora accadendo con Passion e come sta accadendo a Matera con Ben Hur. Oltre a questa interessante novità, la prima edizione del Festival del Libro e della scrittura creativa promossa dall'Associazione Le Cose ha permesso di conoscere da vicino validi scrittori molisani. Al tempo stesso i workshop, le letture, concerti, seminari e dibattiti hanno vivacizzato l'ambiente culturale Sernino. Partiamo dal libro perché abbiamo l'intenzione di rivitalizzare la lettura, di rinvogliare le persone ad avvicinarsi al libro, ma non è solo questo. Noi ci muovemo in diverse direzioni, in diversi canali. Questa associazione ha lo scopo comunque di diffondere l'idea del co-working, quindi la collaborazione tra enti, associazioni, ma soprattutto persone. Lo facciamo, siamo un gruppo di ragazzi abbastanza giovani, ci rivolgiamo a tutte le fasce d'età e il nostro obiettivo quindi è quello di coinvolgere il numero maggiore di possibile, proporre e aiutare e supportare chi ha bisogno di diffondere la cultura.